In un caldo pomeriggio di metà ottobre il campionato di promozione Girone B comincia a delinearsi in campo Athletic contro Golfo Paradiso. Iniziano forte entrambe le squadre, per primi colpiscono i padroni di casa che trovano il gol dopo solo due minuti con Del Vecchio. Va nelle proteste del Golfo per un sospetto fuori gioco, la direttrice di gara convalida la rete ed è subito 1-0. Il vantaggio dura però circa un quarto d'ora, gli ospiti infatti trovano il pari con Battaglia che su calcio d'angolo trova il colpo vincente. Voliamo al 28esimo, quando a provarci Aprile il bel gesto tecnico esce fuori di poco. Dall'altro lato risponde Gasparri, ma il suo imperioso stacco di testa si perde a lato. Al 40esimo ancora Aprile tenta di impensierire Bartoletti ma il portiere vola sulla punizione e sventa il vantaggio ospite. Voliamo al 65esimo, ci prova Gasparri da fuori ma la mira non lo supporta. Al 72esimo punizione per il Golfo, parte Foppiano ma il portiere è attento e devia in calcio d'angolo. Sul capovolgimento di fronte Cagliani tenta la prodezza balistica ed è solo la traversa a strozzargli in gola l'esultanza. All'85esimo grande occasione per Ilardo che trova bene il piazzamento ma il suo tiro non è sufficientemente potente e diviene preda dell'estremo difensore. Al 91esimo c'è spazio ancora per una punizione, parte battaglia ma Bartoletti dice no. Si conclude così una partita combattuta tra due compagini in forma che hanno alternativamente offerto ottime giocate.